Consigliere Pettinari, questa mattina lei sta tenendo questa conferenza stampa proprio nei pressi della biglietteria del terminal bus di Pescara per denunciare delle criticità che riguardano i trasporti e non solo. Sì, stiamo parlando del trasporto pubblico regionale che vorrei ricordarlo è la seconda voce più importante del bilancio di Regione Abruzzo. Qui denunciamo che le biglietterie presenti su tutto il territorio regionale sono chiuse il pomeriggio, nelle ore pomeridiane. Questa è causa di enorme disagio per l'utenza soprattutto anziana perché al danno si aggiunge la beffa, non solo non trovano la biglietteria aperta quindi non possono fare i biglietti ma all'interno dei pullman le emettitrici sono spesso non funzionanti, causa covid il personale non può fare i biglietti e quindi ci si ritrova a produrre un'elevata evasione tariffaria e questo è un danno enorme all'azienda. L'azienda risponde dicendo che l'app non può essere la panacea di tutti i mali perché tanti anziani non riescono a dare su internet, non possono fare il biglietto su internet. Non solo, la biglietteria rappresenta il punto di informazioni cruciali per il cittadino. In questo periodo hanno chiampiato più volte gli orari degli autobus e il cittadino entra in contatto con l'azienda solo ed esclusivamente tramite la biglietteria. Quindi un punto importantissimo, chiedo con forza di ripristinare la funzionalità pomeridiana perché il personale c'è ma addirittura hanno tolto alcuni, alcuni mandano anche in ferie d'ufficio quindi non è un problema di personale, è un grave di servizio che l'azienda deve ripristinare per erogare un servizio efficiente ed efficace. Aggiungasi un altro problema serissimo, che i mezzi sono vetusti, escono più volte con le spie rosse accese, si sfasciano un giorno sì, un giorno no, lasciando gli utenti a terra. Io ho registrato diverse lamentere di studenti che rimangono a piedi, lavoratori che rimangono a piedi, hanno acquistato dei pullman usati che non vanno bene, e udite udite, a fronte dei mezzi rotti e sfasciati, ho denunciato anche io che hanno acquistato delle macchine autovetture fiammanti, lussuose per il personale di vertice amministrativo. Tutto ciò non va bene e la gestione pessima del trasporto pubblico regionale, un appello forte al Presidente di Regione, al Sottosegretario dei Trasporti, di fare presto ripristinare i servizi perché i nostri utenti hanno realmente bisogno del trasporto pubblico. Abbiamo approfittato di questa situazione particolare odierna per segnalare la necessità di un'apertura immediata, anche pomeridiana, per quanto riguarda le biglietterie perché ovviamente oltre ai danni all'utenza c'è anche poi il riflesso sul personale viaggiante perché quell'utenza che non trova informazioni nei punti vendita, nelle biglietterie, è costritta di volta in volta a sopperire a questa lacuna chiedendo appunto al personale che col Covid quindi non può avere contatti diretti e c'è quindi una situazione anche emergenziale sugli orari delle corse perché con le corse aggiuntive per gli studenti e la piena pandemia, quindi emergenzialità, bisognerebbe dare una delucidazione un pochino più chiara a chi vuole fruire del TPL regionale. Grazie! Grazie a tutti! Grazie a tutti